Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Non mi dice il Signore, il Signore, entrerà nel regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre Mio è il Diceo. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a Girono Sangio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.